31 marzo e primo aprile, un vortice di passioni e tradimenti a terra amara. La morte del sindaco getta un'ombra sulla città. Ciukurova è sconvolta dalla tragica scomparsa del suo leader. Lutfie, donna forte e decisa, assume temporaneamente la carica di sindaca, consapevole del peso che grava sulle sue spalle in un momento così delicato. La tensione serpeggia tra gli abitanti, incerti sul futuro della loro comunità. Hakan, tormentato dal tradimento di Zuleya, cerca conforto in Kadir. L'amore tra Hakan e Zuleya è ormai compromesso. Hakan, distrutto dal dolore, si confida con Kadir, il suo amico fraterno. Le sue parole sono cariche di angoscia e di amarezza. Kadir, con la sua solita lealtà, gli offre il suo sostegno e la sua comprensione. Betul chiude con Kolak, ma la rabbia alimenta la vendetta. Betul, stanca di essere manipolata da Kolak, decide di troncare la loro relazione. Lo lascia con rabbia, rinfacciandogli i suoi inganni e la sua crudeltà. Betul, accecata dalla furia, le rivolge una domanda che gela il sangue. Quando metterai Zuleya al suo posto? La sua sete di vendetta è ormai incontrollabile. Hakan, sconvolto, ammette il suo amore per Zuleya. In un momento di profonda vulnerabilità, Hakan confessa a Kadir il suo amore per Zuleya. Le lacrime rigano il suo volto mentre pronuncia queste parole, consapevole che la sua confessione potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto. Kadir, sorpreso e commosso, ascolta in silenzio il suo dolore. Il fidanzamento di Betul e Kolak scatena pettegolezzi e tensioni. La notizia del fidanzamento tra Betul e Kolak sconvolge Cukurova. Le malelingue si scatenano, alimentando sospetti e illazioni. Lutfie osserva con disapprovazione la loro unione, intuendo che le loro ambizioni non sono sincere. Sevrie, con la sua aria maliziosa, diffonde pettegolezzi che avvelenano l'atmosfera. Kadir, furioso per il fidanzamento, litiga con Betul. La rabbia di Kadir esplode quando apprende del fidanzamento di Betul con Kolak. La accusa di aver tradito il suo amore e di averlo usato per i suoi biechi scopi. Betul, a sua volta, rinfaccia a Kadir la sua debolezza e la sua incapacità di lottare per ciò che desidera. Lo scontro tra i due è acceso e violento, carico di rancore e di delusione. Vaap spara a Kadir prima del matrimonio di Betul. La tensione prima del matrimonio è alta. Kadir, sconvolto dalla confessione di Betul, è ancora combattuto tra l'amore per lei e il dolore del tradimento. Così cerca di impedire il matrimonio, fermando la macchina dove c'è Betul e Sermin. Improvvisamente Vaap, accecato dalla rabbia, spara a Kadir, ferendolo gravemente. Il caos e il terrore si impossessano della scena, mentre Betul corre al fianco di Kadir, implorando per la sua vita. Kolak, devastato dal tradimento di Betul, chiede di bruciare l'officina di Kadir. La rabbia di Kolak per il tradimento di Betul è incontrollabile. Nel suo delirio di vendetta, decide di bruciare la casa di Kadir. Simbolo dell'amore che gli è stato negato. Betul è divisa tra l'amore per Kadir e la paura di Kolak. Betul, imprigionata nella villa da Kolak, è tormentata dai sensi di colpa e dal rimorso. L'amore per Kadir la tormenta e la speranza di una vita con lui la tiene viva. Allo stesso tempo, però, teme la vendetta di Kolak, uomo crudele e senza scrupoli. La sua esistenza è un incubo. È prigioniera di una gabbia dorata. In balia dei suoi aguzzini. Akan, in un momento di vulnerabilità, incontra Fikret e Chetín. Akan, ancora provato dalla confessione a Kadir, incontra Fikret e Chetín. I due uomini, amici di lunga data, lo vedono vulnerabile e fragile. Le loro parole pungenti lo feriscono, ma allo stesso tempo lo spingono a reagire e a non arrendersi. Akan lascia Chukurova e affida la sua eredità a Zuleya. In un momento di profonda crisi esistenziale, Akan decide di lasciare Chukurova. Non riesce più a sopportare il dolore e la delusione che gli hanno causato le persone che amava. Prima di partire, però, compie un gesto di grande generosità. Affida la sua eredità a Zuleya, dimostrando ancora una volta il suo amore incondizionato per lei. Fikret è gravemente ferito e Akan si batte per salvarlo. Fikret, rimasto gravemente ferito nell'attentato di Vaap, viene trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono critiche e la sua vita è in pericolo. Akan, sconvolto dalla notizia, si mobilita per salvarlo. Si batte contro il tempo e contro ogni ostacolo per trovare un medico che possa operarlo. La sua tenacia e la sua determinazione sono la chiave per la sopravvivenza di Fikret. Fikret viene operato dal dottor Dupont. Grazie all'intervento tempestivo di Akan, Fikret viene operato dal dottor Dupont, un luminare della chirurgia. L'operazione è lunga e delicata, ma il dottor Dupont è fiducioso. L'ansia e la speranza si mescolano nei cuori di Akan, Zuleya e tutti coloro che amano Fikret. La sua vita è ancora appesa a un filo, ma la speranza di un futuro migliore inizia a brillare. Betul sposa Kolak e abbandona Kadir. Nel climax di questo dramma avvincente, Betul, spinta dalla paura e dal desiderio di vendetta, decide di sposare Kolak. Il matrimonio è una farsa, un simulacro di amore che nasconde rancore e inganni. Betul, con il cuore spezzato, rinuncia a Kadir e si lega a un uomo che non ama. La sua scelta provoca dolore e sofferenza a tutti coloro che la amano, in primis Kadir, che la vede allontanarsi per sempre. Betul confessa a Sermin di essere innamorata di Kadir. In un momento di fragilità, Betul confessa a sua madre il suo amore per Kadir. Le sue parole sono sincere e piene di rimorso. Sermin, sconvolta dalla rivelazione, si ritrova a dover affrontare una verità scomoda. Betul tenta di avvelenare Kolak, ma lui la scopre. La notte delle nozze, Betul tenta di avvelenare Kolak, l'uomo che ha sposato per vendetta. Il suo piano diabolico però fallisce. Kolak, sospettoso e vigile, la scopre in flagrante. La rabbia di Kolak è incontrollabile. La imprigiona nella villa, privandola della sua libertà. Sermin lascia la proprietà di Kolak. Sermin, sconvolta dalla scoperta della scomparsa di Betul, lascia la proprietà di Kolak. Il suo dolore e la sua delusione sono immensi. Si ritrova sola e sconfitta, con il peso della sua complicità sulle spalle. Kadir, in ospedale, apprende del destino di Betul. Kadir, ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito da Vahap, apprende del destino di Betul. La sua reazione è mista. Da un lato, prova pietà per la donna che amava. Dall'altro, non può dimenticare il suo tradimento. In questo video abbiamo deciso di riassumere le puntate di Terra Amara che andranno in onda domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile. Vi sono piaciute queste pillole di Terra Amara? Vi aspetto nei commenti.